I primi tempi erano difficili e adesso... Occhio! Sì, perché puoi scappare anche! Ah, vabbè! Sì, perché puoi scappare anche! Franceschè, Franceschè! Operatore presente! Cosa vuoi? Domenica da Samen! Perché c'è anche Fratus! Domenica da Samen è l'unico! Oh Fratus! Sei in trasferta anche te! Siamo di qua! Che mi fai fare? Ma scusa eh! Stai registrato? Ma si può lanciare più bene! Chi? Sì! Sì! Staccato vicino male! Ciao! No, no, no! Quella mia! C'è! È un bravo che ha abbracciato! Mamma! Ah, la sta guardando cosa? No! Dopo la metto! Metterò una musichetta! Cosa? È un bravo che ha abbracciato! È un bravo che ha abbracciato! Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no questo tipo ragazzi è vero si 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 balla ora si balla ma ora io lo spalla Ancora me Fa che giocare Grazie Perchè dirà Vai Giuliano 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 Dopo Cidrugano Oh 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 No Oh 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 C'è un falo di mano nettissimo Oh 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 sulla pala grazie no, è mancano due minuti ancora ma si? ecco, non è cominciato a precisare 2.33 bravo, vai Mario bravo Mario bravo Mario via via dai ragazzi dai 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 sì in effetti ahahah Secondo me lo c'è Che brava Come verde Come verde Non ha toccato nessuno Finita arbitro E' finita Eccola lì Pronto Ciao Dimmi Sì lascia stare Dimmi tutto Anche te lo dici Sì di mano Sì 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 Bravissimo Bravissimo Giochiamo alle due A The Devils Ti mando All'una lì Fizio Nasco Comunque ti mando Ti mando l'inderezzo Sì te lo mando subito Va bene Ok Ciao 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 Ciao